Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come ho detto dal titolo, oggi voglio parlare di un canale che ultimamente sta crescendo un bot su YouTube, ovvero YouTube fa cagare. È un canale che in un mesetto si è fatto molti iscritti, 200.000. Questo canale si parla di video critiche, ovvero parla di come è YouTube veramente oggi. Infatti tutti noi sappiamo che almeno al 50% dei video su YouTube sono fake per fare visual. Allora, io in questo video voglio dare una mia opinione su questo canale. Da una valutazione da 0 al 100 gli do 50. Perché? Perché io sono anche molto contento se qualcuno fa un video e parla come YouTube veramente oggi. Però, sinceramente, a me, personalmente, non piace l'esagerazione. Perché se io creo un canale, per esempio, faccio un esempio, che è un canale in cui dico YouTube mi ha creato il telefono, YouTube mi ha rubato la casa. Per esempio, è una scemità, è logico che posso avere un sacco di visual e iscritti. Cioè, quindi fare qualche video critica per dire come è YouTube veramente oggi, ma non esagerare. Scusate se parlo male, ma sono pure stanco. Ma niente, questa è una mia opinione personale. E niente, spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, lasciate un like e ci vediamo al prossimo video. Ciao!